La riuscita manifestazione dei lavoratori di Data Contact di Matera, con a fianco la sola UGL, ripropone all'attenzione della regione il ruolo di concertazione tra le parti in difesa di tutti i posti di lavoro e dell'unità produttiva materana. Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Castelluccio. Tornando ad occuparsi dell'avvertenza, l'esponente politico ha sostenuto che il prefetto di Matera, Bellomo, ha dato prova di responsabilità istituzionale, svolgendo una funzione di raccordo tra regione, Mise e Telecom. Un impegno che, a suo parere, non è pervenuto dall'assessore liberale, il quale, ha detto Castelluccio, si è limitato ad un paio di incontri di circostanza, con un atteggiamento decisamente al di sotto della portata dell'avvertenza. Secondo il consigliere di Forza Italia, per ottenere i risultati sperati, non bisogna lasciare solo i lavoratori e il sindacato, perché la posta in gioco per la realtà materana è altissima. L'obiettivo centrale, a concluso, deve essere quello di scongiurare che altre 400 famiglie rimangano senza reddito.